Ciao ragazzi, siamo insieme, facciamo partire le nostre pedane vibrante, ci mettiamo sopra, pieghiamo bene le gambe e aumentiamo la velocità. La velocità sempre deve essere tollerabile per me. Non parto con una vibrazione troppo, troppo aggressiva, specialmente se sono un principiante. La mia nuova pedane arriva a 180 oscillazioni al secondo, cioè velocità, però io posso garantirti che già io sto lavorando 129 se non sbaglio, 130 è sufficiente, me la sento, lo sento bene, sento che comunque è potente appunto giusto, assolutamente non deve vibrare la voce, non deve ballare la vista e continuiamo a fare il nostro lavoro. Allora cominciamo a fare i nostri curls, uno in su e giù, su e giù. Abbiamo due elastici che arrivano con le nostre pedane vibrante. La pedane vibrante tecnicamente non dovrei fare niente tranne rimanere con le gambe piegate, questo sì. Posso cambiare l'intento dei piedi, cosa che faremo durante questo allenamento. Posso usare gli elastici, ma tecnicamente potrei stare anche ferma e comunque avrei il mio risultato. Questo è molto efficace per chi è stanco, cioè magari tu arrivi alla fine della giornata, io non so voi, io devo assolutamente allenarmi la mattina, se non mi alleno la mattina, in pomeriggio ogni tanto provo di allenarmi ma non ho la stessa verba, c'ho proprio una sorta di calo del bioritmo, dell'energia, dei zuccheri, chiamano quale che vuoi chiamare e non ho la stessa verba che metto la mattina. Così magari noi non abbiamo il tempo di farci l'allenamento la mattina, lo facciamo un pomeriggio, perfetto, lo faccio un pomeriggio, ma lo faccio con la pedane vibrante che è molto allenante perché lo è, ma non lo sto provocando in movimento e per questo non mi stanca come stancarebbe un allenamento in palestra, ma avrò risultati. Piego i gomiti, piego le gambe, sono sempre piegate, scendo giù e vado su con le braccia, otto e sette e sei e cinque, quattro, tre, due e rimango su, lo trattengo, scendo con le gambe e lo tratteniamo per otto, per sette, per sei, per cinque, per quattro, per tre, per due, mani sulle cosce. Guardate che succede quando mettiamo, appoggiamo gli elastici giù per terra un attimo, quando appoggio le mani sulle cosce noterete che le braccia stanno oscillando anche loro, scendo di gambe, spingo con le mani contro le cosce, più spingo più vedrò che stanno bailando anche le braccia. Questo è un allenamento total body che possiamo fare sulla pedane vibrante. Siamo ovviamente assorbendo più intensità in questo modo perché sto applicando ovviamente uno squat isometrico su una pedane che mi sta facendo fare un lavoro intenso. Spingo ancora per otto, per sette, per sei, per cinque, per quattro, per tre, per due, torno su. Adesso portiamo più peso sulla gamba sinistra, scendo giù, porto il gluteo indietro, spingo sul tallone e porto il tallone anche leggermente in fuori e guardate la coscia. La coscia e il gluteo è più attivato così, più porto il busto in avanti, più porto il gluteo indietro, più sto lavorando su questo distretto perché quando applico una contrazione sulla pedane vibrante avrò maggior risultato. L'altra gamba che ovviamente sta lì per l'equilibrio si sta drenando, si sta massaggiando perché non sono appoggiato di peso sopra questa gamba, ma solo questo qua. La manteniamo ancora per un altro otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e cambiamo lato. Noterete già, ok, busto in avanti, gluteo indietro, appoggio sul tallone, sto lavorando, questa gamba è rilassata. Notate come ti arriva la vibrazione, senti come la vibrazione sta arrivando, senti come sta arrivando bene, saldo, intenso su il gluteo e andiamo, continuiamo a fare questo lavoro. profondo, intenso e attivante, se vogliamo dire attivante per le nostre gambe, per le nostre glutei. In dieci minuti ti garantisco, con la mia pedana vibrante senterai il lavoro. Questa è una pedana che letteralmente sono pazza di questa pedana per diversi motivi. Uno perché ha 180 velocità, che permette a tutti a trovare la loro giusta vibrazione. Se quando c'è poche, diciamo, intensità da 0 a 30, per esempio, hai solo 30 possibilità di trovare quella giusta vibrazione per te, che è giusto ma non troppo, non troppo poco. Invece quando c'è la 180 hai l'imberasso della scelta di trovare quella vibrazione che ti aiuta a tonificare la pelle, drenare, attivare muscolatura e fare un bel lavoro. Riprendiamo il nostro elastici, l'abbiamo già fatto un giro di braccio, rifacciamo perché con questi allenamenti voglio innanzitutto spiegarti come funziona una pedana vibrante e come usarla correttamente perché tante, tante, tante persone parlano sulle pedane ma non l'hanno mai utilizzato uno, ci lavoro da 20 anni e devo dire che è un gran signor coattivante per migliorare la qualità dei vostri muscoli, per la qualità della pelle, migliorando l'aspetto degli anestetismi della cellulite e perché no anche aiutarti a drenare, non indifferentemente, migliorando il microcircolo. Da qui, gomiti piegati, andiamo su e giù per 8, 7 gambe sempre piegate, 6, 5, 4, 3, 2, mantengo su, braccio su, scendo di gambe, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, lascio l'elastico giù, adesso divarico le gambe e scendiamo per l'interno coscia. L'interno coscia, mi piace la pedana più larga perché quando la pedana è troppo stretta è un po' noioso su le ginocchia, è un po' difficile la forma, invece qui possiamo divaricare bene i piedi lavorando sui talloni, senti come, metti la mano proprio all'interno coscia, senti come ti arriva bene la vibrazione all'interno coscia, puoi poggiare anche le braccia, spingi le braccia contro l'interno coscia, ok, e contro la coscia e vedrai che anche le braccia adesso ha convolto e sta vibrando. A questo punto di nuovo ritorniamo su quelli che sono i nostri esercizi total body. Abbiamo quasi finito il nostro allenamento oggi, 10 minuti. Nulla ti evita di fare un altro giro, un altro 10 minuti volendo. Quando noi facciamo la pedana vibrante challenge, mio consiglio è di fare 20 minuti per 10 giorni consecutivi, foto prima o dopo e noterete differenza sulle ritenzioni idriche quasi in meno di due settimane. Questa l'ho visto, rivisto, vedo ancora. Ricordiamo sempre, ok, in pochi secondi poi ti faccio venire sul senso della braccia, ancora 4 e 3, 2, 1, su, ci mancano due minuti, divarico e lascio che l'interno coscia sta lavorando, lavoro su entrambi le gambe, non soltanto su una gambe solo, vedrete tutte queste attività, non è solo per i muscoli ma anche per la pelle, ok? Gambe sono sempre piegate, noterete che non aderizzo mai le gambe, questo è per evitare che la vibrazione mi arrivi in testa. Quando siamo stanchi, sentirai magari troppo acido lattico, chiudi le gambe in quel caso, ci manca 90 secondi, proviamo di mantenerlo per 90 secondi per questo bello allenamento di 10 minuti. quando noi facciamo i challenge, mi raccomando, foto frontale, laterale, laterale, posteriore e lo fai alla stessa altezza, primo giorno, ultimo giorno, con se possibile le stesse luci, così vedrai veramente la differenza di ritenzione idrica. Gli anestetismi della cellulite non si curano una volta per sempre, se smette di utilizzare la pedane vibrante prima o poi, ritorna ritenzione idrica, ritorna problema connettivale. Dopo le menopausa, fondamentale la pedane vibrante, perché la pedane vibrante ci aiuta tantissimo con l'arrivo di questo cambiamento circolatore legato all'estrogeni o mancanza di estrogeni e legato al rallentamento metabolico che molto, molto repentino arriva, boom, come un carro armato, ti blocca il metabolismo, comincia a riempirti di cellulite e dici, ho panico, pedane vibrante in quel senso, pedane vibrante è eccellente per aiutarci con la nostra ritenzione e anche nel nostro tono muscolare e della pelle. Ultima 15 secondi, abbiamo finito, scendo sulle gambe, assorbi l'ultima vibrazione per la giornata, ripeto, questi sono dieci minuti, potresti fare un altro dieci minuti volendo, ma non è neanche necessario, dieci minuti è più che sufficiente con una pedane vibrante quando stai vibrando a una velocità interessante. Vi ringrazio sempre per seguirmi, passate una giornata meraviglioso e ricordate ogni giorno di fare qualcosa per il tuo benessere. Baccio dalla Jean.